Partenza, partenza shock su Telecom Italia, adesso vi farò vedere altri movimenti interessanti sui titoli azionari, cominciamo, andiamo subito con la sigla! Buongiorno, 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 ben ritrovati a questa video analisi dedicata ai principali titoli azionari del Fuzzimib, anche quelli più richiesti su Investing, mentre se vuoi una video analisi tutte le sere ti faccio una diretta nella mia stanza privata, esclusiva chatroom privata all'interno della Trading Zone faccio una diretta dopo la chiusura di Piazza Affari su tutti e 40 titoli, ma non è solo analisi, è anche formazione perché spiego come usare le candele e chinash che sono fantastiche, bellissime, non infallibili per carità ecco perché bisogna sempre contestualizzare quando c'è l'indicazione operativa e quindi formazione a mercati aperti su casi concreti. Ti ho parlato della Trading Zone, attenzione, sopra quel buono Amazon che vedi è proprio dedicato relativo alla Trading Zone dove ci sono, c'è questa opportunità, voglio farti un regalo, eccole lì, vedi tutti i contenti, la folla che festeggia buono Amazon, sono quelli che già hanno completato la procedura, quindi qui c'è grande, grande, grande festa e andiamo, andiamo a fare un salto nella Trading Zone che ricordo è un servizio tutto 95, va, 95% è gratis, i servizi premium tra cui quello de Carolis Multidea, eccolo qua, vedi ogni sera io pubblico il link della diretta che diventa poi video registrazione, è un servizio, quelli dei servizi premium, quelli che vedete sulla sinistra con il lucchetto, ci sono io, c'è Carlo Vallotto, Corrado Rondelli, Davide Marone, Ivan Gaddari, Marco D'Andrea, Nicola Parra, Toniccioli Puviani, il team di Volchatz, però anche questi si possono avere gratis, vieni nel mio sito, il mio sito lo avete scritto qui, renatodecarolis.it per avere maggiori informazioni e poi scorrendo sulla sinistra c'è Buoni Amazon ed è lì, è lì che devi cliccare per vedere come, come è possibile ottenere questo buono Amazon di 150 euro, però non perdere tempo perché fino al 30 aprile, questo regalo, quindi fino alla fine del mese appena iniziato, non è un pesce d'aprile, ci tengo a dire, non è un pesce d'aprile, è tutto vero, quindi 150 euro, ti aspettano, buono Amazon che sarà inviato via email, e poi hanno detto pesce d'aprile, che c'entra gli squali, non era quello, ho sentito pesci, non era, non è, non è quello, gli squali, no, 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 non è nulla a che fare, poi se ti registri alla Trading Zone, hai la possibilità di crearti gratuitamente una postazione di trading con i grafici, li puoi ingrandire, li puoi spostare come vuoi, cerca tra i CFD per avere anche intraday in tempo reale, le quotazioni, titoli azionari, indici, valute, materie prime, live tv, CNBC, Sky TG24 per esempio, il calendario macroeconomico, data flash, anche questo lo puoi spostare, sono tra i widget che tu apri e praticamente chiudi questa finestra, e le chat poi, le chat, le chat, vedi per esempio quella titoli azionari, un ingresso su InWit, Monte dei Paschi sta decollando, grande Christmas, sia te che seguiamo, perché c'è questa bella interazione, immaginate di essere una sorta di sala operativa virtuale in cui interagite con gli altri traders e sono chat room dedicate a tutti gli asset, quelli più importanti, quindi dai, ti aspetto, ti aspetto, nella trading zone gratis e poi se segui la procedura indicata in quella pagina lì del buono Amazon, anche buono Amazon, 150 euro di buoni Amazon, eccoli qua, i buoni Amazon che volano e che mi raccomando ti aspettano. E allora, prima di vedere i grafici, Telecom Italia dicevo, mamma mia che apertura, c'è stata oggi la notizia, insomma, che Fibercorp, Team, KKR, Fastweb e operativa, da oggi il CDA, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da nove consiglieri, di cui cinque Team, designati da Team, tre da KKR, Infrastructure e uno da Fastweb. Massimo Sarmi sarà il presidente, Fibercorp consentirà a Team, Fastweb e agli altri operatori di coinvestire completando i piani di copertura in fibra nelle aree nere e grigi e anche poi ovviamente con un riferimento anche a quello che sarà la rete nazionale unica, veloce, internet veloce a livello nazionale, dove recentemente anche il governo ha dato dei messaggi che intende fare qualcosa prima di Pasqua. Governo, oggi è primo aprile, non so se effettivamente avremo delle novità o meno. aveva detto al ministro dello sviluppo Giorgetti, qualcosa prima di aprile, prima di Pasqua. Oggi è primo aprile, giovedì santo, quindi attenzione. Vediamo, molto, molto, molto gli acquisti recenti proprio sul titolo Telecom Italia, andiamo a vedere a questo punto il grafico, che avevano anche i chi nasci, come sempre i grafici ai chi nasci, sono espressioni dei rapporti di forza tra chi è a rialzo e a ribasso. Se c'è una candela verde non è perché l'ho deciso io, dico la larla verde, ma perché vuol dire che in questo momento c'è una pressione rialzista superiore. I rialzisti sono in maggioranza e quindi questo movimento, questi acquisti che ci sono stati praticamente da inizio settimana, sono stati intercettati, come dico io sempre, dalla candela verde a 25 marzo, e quindi siamo anche in una zona grafica, area 0,42, 57, interessante, e da lì si poteva pensare ad un'inversione che c'è stata. In tre seduti ha fatto un movimento di 6 punti percentuali, con il massimo toccato il 30 marzo. Ho toccato il microfono io, ha fatto quindi 6 punti percentuali, e sembra, guarda caso, che coincidenza, dove si sta fermando, per il momento si è arrestato questo movimento a rialzo. La candela verde è diventata quasi doji, le candele doji sono quelle dove apertura e chiusura sono sullo stesso livello, sulla zona, quella zona a resistenza, verso 0,47. Quindi attenzione, potrebbe esserci un cambio di strategia. E oggi, come dicevo prima della sigla, apertura da qui a 0,46, 72, al minimo a 0,44, 81, in mezz'ora, sono 4, 4 punti percentuali a ribasso. Eh sì, 4 punti subito subito in mezz'ora. E poi adesso li sta recuperando, se vediamo adesso da quel minimo a dove siamo adesso, altri 2 punti percentuali. Insomma, qui, occhio, occhio a non farvi male, io lo so che questi movimenti possono essere pericolosi. Tolgo il grafico un minuto sotto, restiamo, lasciamo solo quello sopra, giornaliero, ai chi nasce, quindi, da monitorare, da monitorare l'eventuale candela rossa su una zona grafica, dove, ripeto, si sono viste già delle inversioni interessanti, potrebbe, potrebbe, non c'è niente di certo, ovviamente nei mercati finanziari, tolgo a cambiare rotta, e qui, però, speculazioni su questa rete unica nazionale internet veloce. Mentre Eni, che ieri ha fatto un massimo a 10.66 euro, portando quasi a 5 punti percentuali il rialzo da quando è apparsa la candela verde, quella più chiara è stata il 26 marzo, lo aspetta il livello successivo, guardate lì, verso gli 11 euro, che, quindi, questa si è vola, 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 Edi, in questo momento, oggi c'è il meeting OPEC, attenzione, attenzione, ti invito a seguire nella Trading Zone, tra i servizi, tanti servizi gratuiti, il mio diario di trading, ho radio Renato, da questa settimana, in una versione completamente nuova, faccio delle dirette su Radio Renato, la mattina, l'apertura, la chiusura, delle borse europee, e poi tutte le news importanti, se succede qualcosa, un nuovo movimento sui grafici, viene subito, faccio delle dirette, quindi su Radio Renato, sotto forma di podcast, lo trovate anche su Spotify, cercate tra i podcast Radio Renato, se venite nella Trading Zone, che c'è anche la versione app, lì anche potete seguire le dirette, mi sa che su Spotify, ho notato che la diretta non parte, parte la registrazione, si possa ascoltare, comunque le registrazioni, Eni è impostato al rialzo, il giorno dell'OPEC, Eni è là, è là che è pronta, sta guardando, guarda su, guarda su a nord, verso gli 11 euro, mentre Leonardo, ieri seduta abbastanza volatile, sembrava partita subito bene, la candela verde, l'inversione segnalata dalla candela verde, del 30 marzo, poi c'è stata una flessione, nella seconda parte di giornata, oggi tornano gli acquisti, e resta decisamente impostato al rialzo, anche per quanto riguarda Leonardo, e quindi anche qui dovrebbe, chissà, volare verso la resistenza, dei 7.844 euro, la discesa da dove c'era stata quella discesa, di oltre 13 punti percentuali, Stellantis è lì, che rimane sopra i 15 euro, e c'ha questo muro davanti adesso, per dare ulteriori segni, tu che sia rialzo su Stellantis, e vuoi confermare questo trend, bisogna buttare giù il muro, a dei 15.30, ha il vento a tuo favore, il grafico ai chi nasci, dice che il vento è a tuo favore, quindi eventualmente, si può andare, si può andare, si può ambire, a livelli più in alto, bancari, questi strani movimenti, che si vedono sui bancari, intesa San Paolo, resta ancora sotto la resistenza, 2.34.40, io personalmente aspetterei, la violazione su base giornaliera, di quel livello, per tornare a parlare, di trend rialzista, e da questo punto di vista, Unicredit è meglio impostato, perché è già su un supporto, quindi già le premesse, per salire, anche se come si vede, non decolla, non decolla, quindi già brutto, se solitamente dopo una candela verde, come era stata questa, non c'è, non parte subito al rialzo, allora, le probabilità diminuiscono, in questo caso, di un trend, che va verso nord, Telecom Italia, l'abbiamo già visto, insomma siamo lì, meno 0.76, e quindi dai, dai, tanti tanti movimenti interessanti, eventualmente vieni nella trading zone, nella chat, dedicata ai titoli azionari, dove continuiamo a parlare, magari anche di altri titoli, e poi c'è il buono Amazon, il buono Amazon, 150 euro, come non è un pesce d'aprile, ribadisco, non è un pesce d'aprile, le video analisi tornano martedì, perché ovviamente domani venerdì santo, lunedì pasquetta, e quindi approfitto per farvi i miei più cari auguri, di buona Pasqua a te, tu 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 tu, e alle vostre famiglie, e trading zone però resta sempre aperta, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, ci vediamo, grazie, arrivederci. a te, tu 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 tu. A te,